Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Notondo, nel refettorio antico. Beh, questo era il posto di Padre Pio. Qui ci sono delle foto. Padre Pio è poco fotografato al refettorio. Queste immagini sono riprese proprio da un filmato video. Possiamo solo ricordare con quanta fatica quegli operatori fecero e soprattutto con quanta fatica Padre Pio dovette accettare queste immagini, di cui era molto contrario. Infatti lo possiamo vedere dal suo volto e dal suo sguardo, ma per obbedienza lo fece perché glielo chiese il Padre Guardiano. Bene, noi qui oggi vogliamo raccontarvi e leggervi una bellissima lettera che Padre Pio scrive alle sorelle campanile, ad una delle sorelle campanile. Una lettera che vi invito a leggere, trattata dall'epistolario numero 3, perché è una lettera che possiamo dire è attualissima. Padre Pio scrive, le anime più afflitte sono le predilette del Dino in cuore, che tu sta pur sicura che Gesù ha scelto la tua anima per essere la beniamina del suo cuore adorabile. In questo cuore tu devi nasconderti, in questo cuore tu devi sfogare i tuoi desideri, in questo cuore devi vivere quei giorni che la provvidenza ti concederà, in questo cuore devi morire quando al Signore piacerà, in questo cuore io ti ho riposta, in questo cuore dunque tu vivi, sei e ti muovi. Eccoti in breve spiegato qual è il martirio della tua anima. Ora comprenderai mia buona figliola perché l'anima che ha scelto il divino amore non può rimanersene egoista nel cuore di Gesù, ma si sente ardere anche della carità verso i fratelli che spesso fa spasimare l'anima. Ma come mai, si chiede Padre Pio, può avvenire tutto questo? Figliola le risponde. Non è difficile intenderlo perché non vivendo più l'anima della propria vita, ma vivendo in Gesù che vive in lei, devi sentire, volere, vivere degli stessi sentimenti, voleri e vita di chi vive in lei e tu, mia dilettissima figliola, sai, benché tardi l'hai appreso, sai, dico, da quali sentimenti e da quali voleri era ed è animato il cuore di questo divino maestro per il Dio e per l'umanità. Spasimi pure la tua anima per il Dio e per i fratelli che non vogliono saperne di Lui perché c'è il sommo gradimento di Lui, quindi tu vivi tranquilla e sia in pace la tua amarezza.